Solo il 2% del personale scolastico nella regione Abruzzo ha effettuato la seconda dose della vaccinazione anti-covid. La FLC-CGL esprime preoccupazione visto il rientro lunedì prossimo di tutti gli alunni nelle classi, anche nelle zone rosse. Il sindacato ribadisce la necessità di riprendere con urgenza il piano vaccinale del personale scolastico per ricominciare in sicurezza le lezioni al 100% in presenza per tutti i gradi della scuola. Occorre, secondo la CGL, accelerare anche in previsione dello svolgimento degli esami di Stato a giugno. La decisione del governo di far tornare in classe gli studenti richiede la soluzione di problemi oggettivi quali gli spazi necessari al distanziamento e il piano trasporti continuano in una nota ai sindacalisti. Problemi non risolti fino ad oggi in molti territori e non risolvibili entro il 26 di aprile. Ad ogni modo i dati per l'Abruzzo per quanto riguarda le vaccinazioni vedono 27.671 prime dosi somministrate, l'86,6% del totale, un numero superiore al dato medio nazionale del 76,8% e 770 seconde dosi inoculate pari al 2,41% del totale rispetto al dato nazionale dell'1,54. Per questo, conclude la FLC CGL, occorre accelerare il piano vaccinale per consentire di fare scuola in sicurezza.